Via Libera alle riaperture dei ristoranti in zona gialla sia a pranzo che a cena. Da lunedì riaprono anche i cinema, i teatri e le sale da concerto, ma con la capienza consentita al 50%. Ok agli sport di squadra, come il calcio e la palavolo, ma con il divieto al momento di utilizzare gli spogliatoi, quindi doccia a casa. Inoltre, sempre dal 26 aprile, si tornerà sui banchi di scuola. Per le zone gialle e arancioni, la didattica in presenza deve essere garantita dal meno al 70% e fino al 100% della popolazione studentesca. Si tratta di percentuali definitive contenute nel decreto riaperture, ma rese note soltanto nella tarda serata di ieri. Infatti le Marchi avevano giusto definito il piano per il rientro al 60%, ora dunque quasi tutto da rifare, compreso il nodo trasporti. Una decisione che ha portato la prefettura di Pesor Urbino a convocare una riunione d'urgenza con Adrabus e gli altri attori interessati, tra i quali l'ufficio scolastico della provincia. Il decreto inoltre stabilisce la riapertura pubblico delle piscine dal 15 maggio, ma soltanto negli impianti all'aperto. Lo stesso giorno potranno riaprire gli stabilimenti balneari, il primo giugno invece si torna in palestra e i ristoranti in zona gialla potranno ricevere i clienti anche al chiuso, con consumazione al tavolo dalle 5 alle 18. Bisognerà attendere il primo luglio per convegni, fiere e congressi, così come per accedere alle terme e ai parchi di divertimento. Poi per quanto riguarda gli spostamenti saranno liberi tra le regioni in fascia gialla, basterà l'autocertificazione per muoversi soltanto per motivi di lavoro, salute e necessità tra regioni rosse e arancioni. Sarà necessaria la certificazione verde invece per spostarsi per turismo. Il pass per i vaccinati vale sei mesi ed è rilasciato dalle strutture sanitarie. Il coprifuoco, infine, è confermato alle 22. Nel provvedimento non viene fissata una data di scadenza, ma è stato chiarito che le misure saranno riesaminate in base all'andamento della pandemia.